Borgonzoni, che idea si è fatta qui? Dice Carboni, tra poco arrivano questi arbitrati. Ma sì, Carboni dice che tra poco arrivano, ormai queste persone stanno aspettando di riavere i loro soldi, che non è che sono dei grandi investimenti, spesso sono 10.000, 20.000 euro che gli servono per sopravvivere a queste persone, che continuano ad aspettarli, vittime di una truffa, perché poi bisogna essere chiari, quando il bail-in è stato fatto, ad esempio, in Italia, venivano salvate delle banche in altri stati, con il fondo, quello sovranazionale, per cui quelle spagnole sono state salvate, mentre le nostre sono andate a prendere i soldi dei cittadini. Borgonzoni, la ferma un attimo. E ora torna a prendere i soldi dei cittadini.